Partiranno subito già la prossima settimana dopo aver finito il lavoro sulla Bifernina i rilievi dell'ANAS sulla stabilità dei 60 viadotti in servizio sulla Trignina. Osservato speciale il viadotto Gamberale che qualche preoccupazione sul suo stato di salute già l'aveva sollevata. Ma alti e a rischio come il Gamberale ci sono altri due viadotti in provincia di Sernia che incutono timore. Il Verrino che collega Agnone e il Sente che collega Belmonte del Sannio. Due viadotti che ricadono su strade provinciali e quindi di competenza non dell'ANAS ma della provincia di Sernia che però non ha soldi per la manutenzione. Purtroppo la rete viaria provinciale è carente, molto carente di manutenzione. Questo ha per effetto dei tagli pesanti che già dal 2015 il governo centrale ha operato sulle province. I due ponti vivono in situazione particolare, i due viadotti, sono anch'essi carenti di manutenzione se non si interviene presto. Nei prossimi due tre anni potrebbero esserci dei peggioramenti nella situazione con il rischio di doverli anche aiutare. Il limite di 20 chilometri orari è un limite importante perché un tir, un camion pesante sono due cose diverse se passa a 20 all'ora oppure passa a 80-90 all'ora e quindi è importante mettere questi limiti per preservare la stabilità del ponte, del viadotto fino a quando non potrà essere effettuata la manutenzione. Per quanto riguarda il Sente è un ponte, un viadotto che al momento non destra preoccupazioni, c'è un pilastro che ha ruotato leggermente nel 2007, già una cosa nota al pubblico, è monitorato continuamente, non ha subito ulteriori movimenti però occorre necessariamente intervenire su quel viadotto per ripristinare la situazione di stabilità. Per quanto riguarda il Verrino invece occorre rifare l'impermibilizzazione della soletta perché se non si interviene con le infiltrazioni di acqua ed in particolare con le infiltrazioni di acqua salata in inverno che poi gela e quindi va a spaccare l'asfalto potrebbe reale dei problemi alla soletta che potrebbe anche diciamo cedere. Avete degli strumenti tecnici che ve lo dicono o no? Avete messo sotto osservazione il ponte o no? Il ponte è sotto osservazione in maniera visiva, esclusivamente visiva ribadisco la provincia, le province non hanno soldi per poter intervenire in maniera massiccia né per fare analisi né per poter manutenere i ponti, le opere. Il ministero, la regione finanziano i progetti, i singoli progetti, fanno le ruotatorie però non finanziano la manutenzione. Purtroppo è proprio la carenza di manutenzione che comporta questo degradarsi delle opere.